Blitz della polizia nella curva della Juventus. I capi e i principali referenti dei gruppi ultra bianconeri sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura di Torino al termine di un'operazione scattata alle prime ore di questa mattina e che ha portato all'emissione da parte del GIP di 12 misure cautelari nei confronti di referenti delle tifoserie di varie città. Le accuse nei confronti degli ultra indagati nell'ambito dell'operazione Last Banner sono a vario titolo associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. In corso anche decine di perquisizioni in diverse città italiane. Per la precisione 37 perquisizioni fra i principali referenti delle tifoserie. L'indagine condotta dalla Digos e dal gruppo criminalità organizzata della procura coinvolge tutti i principali gruppi del tifo organizzato, drughi, tradizione antichi valori, viking, nucleo 1985 e quelli di via Filadelfia. Oltre ai leader delle varie sigle risultano coinvolti nell'inchiesta anche un'altra quarantina di soggetti, tutti iscritti nel registro degli indagati. Si tratta dei rappresentanti dei gruppi nelle varie città italiane e degli esponenti di un'altra sigla, il NAB, nucleo armato bianconero. Le perquisizioni, coordinate dalla direzione centrale della polizia di prevenzione, sono in corso non solo in diverse città del Piemonte, Alessandria, Astibiella, ma anche a Como, Savona, Milano, Genova, Pescara, La Spezia, L'Aquila, Firenze, Mantova, Monza e Bergamo. L'indagine è partita un anno fa dopo che la Juventus aveva denunciato tentativi di estorsioni da parte dei leader dei principali gruppi ultra bianconeri, in seguito allo stop alla fine del campionato 2017-2018 di alcuni privilegi concessi dalla società calcistica ai gruppi ultra. È stata infatti accertata la capillare attività dei drughi per recuperare centinaia di biglietti di accesso allo stadio per le partite casalinghe della Juve, avvalendosi di biglietterie compiacenti sparse su tutto il territorio nazionale.